Le cure a domicilio potenziate con la pillola anti-covid, l'antivirale della casa farmaceutica Merck, che viene assunto per via orale, ma entro 5 giorni dall'insorgenza di sintomi, altrimenti il suo utilizzo rischia di diventare inutile. Il nuovo farmaco, che si chiama Mollupiravir, ma il nome comune con cui si trova in commercio è l'Agevrio, ha lo scopo di impedire il verificarsi di un quadro serio della malattia e rappresenta un'evoluzione nella terapia domiciliare precoce. Tutti i pazienti che lo assumono gratuitamente sono iscritti in un apposito registro di monitoraggio per verificarne gli effetti a breve e a lungo termine. Anche a Fanno le unità speciali di continuità assistenziale hanno iniziato a somministrarlo, un altro passo avanti, importante, nella lotta al coronavirus. Luca Leusca, in prima linea anche in questa quarta ondata, quanti siete qua nella zona di Fano? Nella zona di Fano attualmente siamo arrivati ad essere 24 medici e 4 infermieri, quindi al giorno siamo tre unità composte o da due medici o da un medico e un infermiere. Tra le ultime novità c'è appunto quella della pillola anti-Covid. Quando l'avete somministrata per la prima volta e a quelle pazienti? Allora, adesso come Leusca abbiamo a disposizione questo nuovo farmaco che è un antivirale orale, quindi sotto forma di compresse, e l'abbiamo somministrata per la prima volta domenica a un paziente anziano cardiopatico. Come ha risposto? Ha risposto molto bene, non ha riferito a eventi avversi al farmaco e adesso anche lui sta bene, non ha sintomi da Covid. Il meccanismo come funziona? Vi viene segnalato o siete voi che dovete individuare il paziente? Allora, tutto parte dai medici di medicina generale che conoscono meglio i loro assistiti e sanno quelli che sono un po' più fragili e che quindi potrebbero beneficiare di questa terapia antivirale precoce. e quindi ci mandano la segnalazione per dire a un paziente con dei sintomi possibili Covid e quindi necessita di eseguire un tampone in modo tale che se fosse positivo potrebbe iniziare la terapia. E quanto dura? La terapia dura 5 giorni. Noi, a proseguito il coordinatore di zona, monitoriamo quotidianamente ogni paziente sottoposto a questa terapia antivirale in modo tale che ogni giorno possa riferirci a eventuali eventi avversi al farmaco. Dopodiché eventuali alterazioni nello stato di salute vengono comunicate al medico di medicina generale il quale può riattivarci o meno per rivisitare il paziente. E in questi giorni poi è stato somministrato anche ad altre persone? Sì, stiamo iniziando a somministrarlo a diverse persone sempre con patologie varie che vanno dal diabete scompensato a immunodeficienze primarie o secondarie, a problemi oncoematologici. E anche in questi casi ha avuto efficacia? Anche in questi casi stiamo ancora monitorando telefonicamente i pazienti e sembra avere efficacia, sì. Ad oggi in totale quanti sono quindi? Allora, al momento ne abbiamo arruolati tre di cui uno termina questa sera il quinto giorno dell'assunzione del farmaco e oggi dovremo arruolarne un quarto. Un'agevolazione anche per il sistema sanitario? Esatto, quello che speriamo con questo farmaco antivirale precoce è quello di ridurre l'ospedalizzazione.